E' bella a tutti ragazzi, sempre io in LennioTV, stiamo su questo nuovo video Ok, allora, come sapete, la moda di questo, cioè in questo mese, in questo anno, come volete chiamare E' sono, e' sono, e' sono, e' sono, e' sono, e' sono, insieme, e' sono, e' sono, no E sono i musicali ragazzi, quelle cose che spesso alcuni chiamano musicali, tipo io Perché musicali non ha un senso, io dico più musicali, no musicali, sono mai veri musicali, musicali No, questa cosa non mi piace, ebbene ragazzi, io ho deciso di fare anche io una reazione ai video più, diciamo, belli di questo mese, di questo anno Ok, eccoci qua ragazzi, con questo, ecco il mio video, aspettiamo, vediamo che cazzo fa Botto frutto Oh, bravo, un applauso a questo rete, su, bravissimo, anche io lo so fare, no, aspre, aspre, aspre Devo rivedere ragazzi, un attimo, perché quindi non mi rendo conto Ok, qua l'ha fatto lui, non so fare il vero No, vabbè, ha fatto un paio, si e' visto, che coglione, vabbè, vediamo Annie Bradley Allora, non so se questa ragazza avrà più di dieci anni, però penso che, vabbè, ci può stare Anna Grande Questa proprio c'è a bombazza Quello dietro è un amante, giusto, è pelo di cornicette, se tu... Ok, benissimo Non mi lasciare, no, non mi lasciare, non mi lasciare Basta, allora Diciamo che... Ciao Black Grey, bentornato, ciao Allora, diciamo che alcune ragazze, perché adesso, li sanno fare Ah, e questo video non è per offenderlo, è solo per divertire, perché l'ho fatto Cioè, vedo molti che lo fanno e ve lo farlo anch'io Allora, lei, si sfide? No Gigi Che cazzo ha fatto? Oddio, che ha fatto? Ciao Allora, Gianni Orlando, benvenuto anche tu Allora, 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 allora Ah, forse Preghiamo Allora Cameron Dallas Ciao, bello Allora, stai a vedere che guardo qua perché ho il programma dell'Aurie, quindi vedo i minuti Che carino Qualcun c'ha fatto No 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 Per nulla Allora Lui sembra Stai, come siamo? Lui si è un tedesco, si vede Aspè, ma c'è capelli C'è capelli bianchi Oh, come c'è La demenza Daniel Sky Ah, ma allora Solo io non capisco un cazzo di quello che dicono questa gente O anche voi Basta che lo dite Oddio Se cadono giù Dice Sì Ok 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 Allora Questa Questa sembra Hannapel Nel film Dell'orrore E nel nulla scoppia C'è Sì 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 Spoccative Porta sfortuna Zia Ok Sì 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 Mamma mia Sfigo Money No Duff Gugluggo Allora Flamillas Vediamo un po' Allora The best Qui sarebbe music Questi sarebbero musici Musi Le più importanti Ecco Cioè Le più belle Le migliori Max Music Salve Baby Allora Vediamo un po' c'è lei cambia che cosa ho visto cosa una nonna che fa la data la stima più tutta a questa ragazza c'è questo brava oddio ma cosa no no allora non capisco perché mentre allora stava allo specchio e andava alla casa lo specchio nella macchina casa specchio guidare posso venire in barro con questa ma tu mi spiegherò ma allora capisco che la vita non è normale a tutti ma non è ancora no vabbè raga basta no basta non è possibile no che cosa sto vedendo Johnny Orlando però ragazzi c'è molti dei musicali mettono bene le parole nel testo della canzone c'è parlo bene normalmente gli inglesi non lo posso ma è che se vedo quelli italiani fanno a tu cacare cioè lo sto spezzando ovviamente quelli bravi ci stanno nell'Italia tipo io tipo io spostiamo spostiamo allarghiamo dub spostiamo allarghiamo dub spostiamo dub dub spostiamo dub dub spostiamo dub dub vediamo l'ultimo 30 e poi ragazzi sto per il video perché continuo la prossima volta ticcane uzzettini uzzettini no 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 ok ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto anzi no vediamoci l'ultimo live questo qua oh questa ragazzi questa devo dire non devo dire questa cosa ebbene ragazzi il video può finire qui se vi lasciate commentate iscrivetevi al canale se non è fatto arriviamo a 15 like per il prossimo episodio cioè del musical di 2 e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi